Si chiude il campionato però immagino che vogliate chiuderlo nel migliore dei modi in vista anche della Coppa Mancini. Sì sicuramente, vogliamo chiudere in bellezza, ci teniamo tanto a vincere l'ultima partita in casa davanti ai nostri tifosi. È normale che le partite precedenti a me non mi sono piaciute sia dal punto di vista del risultato che dell'atteggiamento, però come dico sempre ci sta, dopo una vittoria di campionato ci sta a staccare un po' la spina, però adesso noi, come dico sempre, ci dobbiamo preparare al meglio la Coppa Mancini e domani è un ottimo allenamento per prepararci mentalmente e fisicamente a questa competizione e ci teniamo tanto. Andrea è pronto, ha fatto questa settimana con noi, adesso devo valutare sinceramente se metterlo dall'inizio a farlo entrare a partita in corso. Sicuramente sarà della partita perché gli voglio dare minutaggio per la Coppa Mancini. Per quanto riguarda i campi sicuramente sarà qualche campo, sicuramente sarà qualche giocatore che non ha giocato poco in questa annata. Dove valutare anche la situazione dei diffidati, sono diffidati Nikita e Alfonso Pepe. Sicuramente Alfonso non sarà della partita, te lo dico perché non mi va di rischiare, perché ci tengo tanto alla Coppa. Dove valutare Nikita perché anche le condizioni di Petrarolo non sono delle migliori, quindi sicuramente dei campi ci saranno in tutti i reparti.